Ciao a tutti amici di Apple Video Review Oggi vado a parlarvi del gioco Project Moss Project Moss è un gioco disponibile gratuitamente su App Store Un gioco in cui è ambientato nello spazio Avremo un'astronave e avremo dei nemici da distruggere Questo gioco necessita di una connessione Per poter essere connessi al server Per poter trovare i vari nemici Andiamo subito a vedere la composizione del menu principale Il menu principale che ci permette subito di andare in gioco con il play centrale Possiamo visualizzare le istruzioni Istruzioni ovviamente in inglese Su come effettuare i combattimenti e quant'altro Abbiamo sulla sinistra l'interazione con il Game Center Per visualizzare i punteggi dei nostri amici e altri giocatori I crediti dei sviluppatori E qui in basso a destra abbiamo l'interazione con Facebook e Twitter Per seguire gli sviluppatori Andiamo subito in play Abbiamo varie astronavi Fra le quali scegliere Ovviamente per poter sbloccare un'altra astronave Dovremmo conquistare un numero di punti Per esempio questa necessita di 1000 punti In questo caso io ho 0 punti Perché non ho mai finito una partita completamente Quindi devo utilizzare la prima che è già sbloccata Attendiamo il caricamento Ecco qui La modalità di gioco è molto semplice Noi all'orizzonte vediamo questi bersagli Che sono identificati da una croce verde Quelli che non potremo comunque colpire Mentre una croce rossa i nemici Andremo semplicemente a fare un tap Sulla croce rossa dei nemici E uscirà un quadrante con un conto alla rovescia E quando il conto alla rovescia sarà concluso Il nemico verrà distrutto Comandi di gioco che sono abbastanza semplici Abbiamo la possibilità di ruotare La visuale della nostra astronave Premendo e tenendo premuto il nostro dito Su un qualsiasi punto dello schermo Quindi Un comando molto semplice Come si può vedere ecco è comparsa una croce rossa Qui abbiamo la possibilità di fare uno switch Fra i vari sensori Questo sensore permette di individuare meglio i bersagli Perché utilizziamo uno sfondo Con un colore più chiaro rispetto alla galassia Quindi possiamo inquadrare meglio E qui in basso abbiamo semplicemente il menu di pausa Andiamo ora a tappare Sulla croce del nostro nemico Vediamo se riusciamo a prenderlo Come si può vedere un po' di difficoltà Nel selezionare il nemico Infatti abbiamo La selezione dei bersagli Quindi dei nemici Abbastanza Le croci sono abbastanza piccole Quindi se Vogliamo selezionare il nemico Dovremo fare più tentativi Perché Le croci si sovrappongono Ed essendo anche abbastanza Di una dimensione molto ridotta Il nostro dito copre completamente La sagoma del nemico Quindi avremo qualche problema Però Nulla di che Come si può vedere Si riesce tranquillamente A Selezionare il nemico E a distruggerlo Ok adesso Non riesco più a selezionare Perché se sono tutte riunite E quindi Si stanno sovrapponendo tutte Bisognerà aspettare un attimo Che Si allarghino I vari bersagli Per poi poter Selezionare quelli da distruggere Come si può vedere Contra la vesce Dopodiché L'astronave nemica Verrà distrutta Qui abbiamo anche L'indicazione Di velocità Della nostra Astronave Che comunque In questa versione Che è gratuita Infatti Come si può vedere Troviamo i vari banner Pubblicitari Nelle varie schermate Forse anche questa È una pecca Della versione gratuita Che ovviamente Però è giustificata La presenza Di questi banner Che Forse Ingombrano un po' La visuale E se premuti Metteremo In pausa Il gioco E verremo Reindirizzati Verso Il link Che contiene Il banner Pubblicitario Ok Distruggiamo questo Poi ritorniamo al menu Ritorniamo al menu Principale Come si può vedere Qui c'è il tasto Per fare un upgrade Alla versione completa Quindi andremo a rimuovere Questi banner Poi non so che altre novità Possono Essere introdotte Quindi però Credo che Per Rimuovere I banner I banner Dovremmo comprare Comunque Un gioco Un gioco Che funziona I contro Invece potrebbe essere I banner pubblicitari Però sono giustificati Nella versione gratuita E forse I bersali Troppo piccoli Per essere selezionati Quindi potremo trovare Alcune difficoltà La video recensione Si conclude qui Ciao a tutti Ciao a tutti